io ho conosciuto il video questo video del quale faremo il cortometraggio su youtube l'ho conosciuto perché un mio amico me l'ha fatto vedere e mi è piaciuto molto tant'è che l'ho presentato l'ho fatto vedere a questo mio amico diego a lui è piaciuto molto tant'è che ha deciso di farci questo cortometraggio anni 96 is trapping è un horror tradotto in italiano che è creato solo da messaggi tra questi due ragazzi non è un testo già con due persone che parlano e poi avviene fatti al testo tutto fatto messaggio all'inizio non capivo all'inizio non capivo come volete trasformare questo testo in cortometraggio quindi non solo come nel video dei messaggi di chat ma rappresentato proprio sotto forma di piccolo film mi è sembrato abbastanza interessante tutto e dall'altra parte ai vale in questo caso nell'arte anni che si stanno di giro le scatole perché non riesce a dormire fu tutto e sarà le la prima mandati un messaggio quindi quando arriverà il messaggio si 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 un prego un prego Anni, che riesco io? Aspetta, no. No, aspetta, aspetta. Io invito il pubblico a vedere l'horror, di vedere se sono stato bravo non solo in quanto regia, provare a rispettare il test originale, perché ho provato a tenerlo sempre in quell'ottica. Guardate l'horror quando esce, spero che sia del... non solo, non voglio il vostro gradimento, ma spero che vi piaccia e che vi faccia paura quanto ho fatto paura il test originale. E vi invito a iscrivervi al mio canale e a loro, a questo canale, che vedete, perché è il canale che mi ha concesso, anche alla loro pagina Facebook, perché mi hanno concesso la traduzione, mi hanno concesso tutto e io sono molto durato a durare. Mi è andato così. Allora, a un prossimo video.